Io penso che la vela sia uno degli sport in assoluto più sicuri che ci stanno svolto all'aria aperta. Anche noi come Circo e la Federazione abbiamo cercato di fare le cose per dare la possibilità a tutti di tornare a fare dello sport sano. Abbiamo una zona dove verrà misurata la temperatura, negli spogliatoi entreranno in numero limitato alle volte secondo ci sono le tracce per terra. Ovviamente abbiamo distribuito secondo il protocollo nelle varie aree del circolo dei dispenser col gel in modo che ognuno si sanifichi le mani prima di toccare qualsiasi cosa. La teoria viene svolta all'aperto con il distanziamento. Ovviamente siamo distanti, indossiamo la mascherina quando siamo al circolo per armare e tutte queste cose, invece quando usciamo la togliamo. Poi siamo sempre distanti anche in barca il più possibile. Abbiamo disegnato sulle barche della scuola dei loghi per il distanziamento tra un allievo e l'altro. Con delle linee guida ben fatte abbiamo la possibilità di ripartire alla grande dando sicurezza e possibilità ai ragazzi di tornare a fare la scuola vela. Tutto questo tempo è stato bellissimo tornare liberatorio, poi ti sentivi proprio a casa. È stato come tornare alle origini, dalla mia prima volta su una barca a vela. Il corso di vela è bello perché riesci a conoscere nuove persone e conosci anche questo nuovo sport che fa sentire libero e ti appassiona sicuramente. Essere vicino alla natura del mare provoca veramente una bellissima sensazione. Non seguo ovviamente la vela perché lo vedo anche sul mio figlio, è una scuola di vita, ti insegna a diventare più maturo, a diventare più responsabile delle tue azioni, di quello che fai perché al fine sei solo in mare. E credo che la vela sia probabilmente lo sport, soprattutto in questo momento storico, più favorevole. Il fatto che sia uno sport comunque pulito, che usa un'energia rinnovabile, che non inquina e che ci porta a vivere così vicino alla natura, è un valore aggiunto assolutamente molto importante. Con il vento e con le onde c'è una sensazione di libertà pazzesca. Questo sport ti dà la possibilità veramente di conoscere l'ambiente, di viverci dentro, di imparare a viverci e a proteggerlo. Io tornerai in barca per quello che la natura ci sta offrendo e perché se tornassi indietro lo rifarei mille volte. Andarriamo col grembiule da scuola e non strappavo e usciva un'acqua, quindi è bello anche passargli intorno, schizzarli, dargli dei consigli, quella è la cosa più bella. Quale miglior sport, quale miglior posto per i genitori dove far passare le vacanze ai propri figli e soprattutto introdurli a uno sport bello e formativo. Grazie a tutti!